Anche l'aveva presentato il dossier eccellente, lo ha riconosciuto la giuria all'età, siamo molto felici, è un altro segno di rinascita e di crescita della regione Abruzzo. Quindi dopo domenica e oggi è un'altra memoria? Beh insomma, chiaramente, le soddisfazioni sono come le ciliegie, speriamo di continuare su questo passo. Grazie, se lo aspettavano? Sapevamo di essere molto competitivi e che il dossier presentato era eccellente. La giuria lo ha riconosciuto, siamo enormemente soddisfatti di questo. Adesso inizia il bello del lavoro, essere all'altezza di questo prestigiosissimo riconoscimento e farci trovare pronti. Da qui al 26 abbiamo tutto il tempo anche per reperire le risorse che saranno assolutamente all'altezza della cartellone artistico, spettacolare e culturale che la città dell'Aquila per prima sarà in grado di presentare con tutte le istituzioni culturali e la regione. Farà la sua parte e sarà parte integrante di questo meraviglioso soggetto. Grazie.